Sotto, vediamo come è la situazione, si ricompone il quartetto, stiamo alle battute finali, 4.50, 4.17, 3.48, 3.97, questo è l'ordine tra cui si presenteranno probabilmente i giri Eccovi qui Eccolo qui la volata, la seconda volata, ha vinto Pasquali Le partenze avvenute quest'oggi attraverso naturalmente il primo trofeo città di Corte Franca Che ha visto dal primo pomeriggio ad ora varie categorie partecipare Ricordo trofeo città di Corte Franca, quindi le fasi dedicate chiaramente alle premiazioni Che vedranno protagonisti anche gli ultimi arrivati Ecco l'altra volata, la terza volata, i cadetti, 3 atleti dalla stessa squadra Giovanni Prete mi sembra uno dei 3 Giovanni Prete, ecco Vassabia, eccolo qui la volata del gruppo Grazie intanto Otti Carenzo, ad Autospazio, San Zeno Naviglio A Fonte Alpina, a Maniva, a Banca Vassabia, a Ristorante Pio Nono di Verbusco Ecco le vie a transitare gli ultimi atleti Ecco la volata del gruppo Grazie a Caffè Evans che hanno partecipato Ecco Anche loro a pieno titolo come sponsor ufficiali di questa prima manifestazione Ecco la cosa è conclusa La gara dei cadetti 1, cadetti 2, ha vinto Pasquali Grazie a Caffè